Estate in diretta, il celebre programma di Rai Uncondotto da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, ha recentemente affrontato un tema di grande attualità che ha catturato l'attenzione del pubblico, i matrimoni e la genitorialità in età adulta. Ma c'è una rivelazione shock in diretta che ha lasciato tutti senza parole. Sei curioso di sapere di cosa si tratta? Prima di continuare, assicurati di iscriverti al nostro canale e mettere like al video per rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie e curiosità. Durante la puntata, la discussione è partita dalla recente nascita di Ginevra, la figlia del noto cantante Gigi D'Alessio. Questo evento ha scatenato un commento da parte di Semprini, avere figli è sempre bello. Anche a 50 anni, ma a 60 o 70? Non diventano dei nonni poi? Questo ha sollevato molte domande e ha alimentato la curiosità del pubblico. Semprini ha poi aggiunto, comunque dico un'altra cosa adesso. Guardate che c'è chi ci sta pensando a fare altri figli. E chi ci sta pensando è qui dentro. Però non posso dire di chi si tratta nello specifico. Chi potrebbe essere? La tensione in studio è salita e gli spettatori non vedevano l'ora di saperne di più. Rossella Erra, sempre pronta a cogliere ogni indizio, ha immediatamente chiesto, Oddio, Nunzia sei tu? Che bello! La risposta della De Girolamo ha alimentato ancora di più la curiosità, con un annuncio che ha lasciato tutti sorpresi. Nunzia De Girolamo, sposata con il senatore P. di Francesco Boccia, è già madre di Gea, nata nel 2012. La coppia ha da tempo pensato di avere un secondo figlio. La conduttrice ha spiegato, io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura, negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all'inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima della soluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime. Questi dettagli personali hanno colpito profondamente il pubblico, creando un legame emotivo e una comprensione più profonda della storia della coppia. Le sfide che hanno affrontato e superato insieme hanno reso la loro storia ancora più avvincente e toccante. Fateci sapere la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere like al video per restare sempre aggiornati su tutte le ultime novità.